Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6. Casi di positività in aumento in Abruzzo come nel resto del paese. Fra i giovani si registrano i maggiori problemi. Un aspetto che preoccupa anche perché nel luglio dello scorso anno c'erano zero casi. Circa il rischio di una zona gialla per la nostra regione. L'assessore Veri fa sapere che le regioni sono pronte a chiedere al governo una modifica dei parametri. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti. La regione Abruzzo così come nelle altre regioni sta avendo un aumento di casi. Noi sappiamo che questi casi sono casi prevalentemente di giovani. Quindi di ragazzi che non hanno patologie complesse che vengono purtroppo attraverso il momento di maggiori interazioni prendono il contagio e quindi stanno aumentando la percentuale. Stiamo riunendo il tavolo sia a livello ministeriale sia della Commissione Salute per richiedere espressamente all'unanimità di tutte le regioni che come indicatore non bisogna prendere solo ed esclusivamente quello che è il numero dei positivi ma soprattutto considerare l'occupazione dei posti letto di terapia intensiva e subintensiva. Cosa realtà nella nostra regione che in effetti oggi non abbiamo posti occupati. quindi è importante capire che un po' grazie al caldo ma soprattutto all'entità del virus non abbiamo problemi, non ci sono problemi riguardo alle strutture ospedaliere e quindi non problemi di occupazione di posti letto. I giovani ovviamente con la consapevolezza di non potersi ammalare sono magari meno attenti. I vaccini vaccinati fra gli under 20 o under 25 ce ne sono pochi e quindi ovviamente non c'è nemmeno la barriera rappresentata dai vaccini. quindi gli assembramenti, l'assenza di vaccini, questo virus che prevalentemente attualmente gira con la variante Delta che è una variante molto più infettante anche rispetto all'Alpha, l'ex inglese, in pratica sta determinando tutte queste cose. E poi adesso c'è l'attesa di ciò che succederà per i festeggiamenti perché pure lì un incontro di tante persone senza molte regole da biasimare oggettivamente da medico, non posso che dire così, favorirà probabilmente la diffusione del virus. In base alla sua esperienza c'è il rischio di zona gialla per l'Abruzzo per le prossime settimane? Io questo non lo posso dire, saranno i politici o comunque le autorità sanitarie competenti. Il tanto è tutto legato ai numeri, se aumentano i numeri dei casi per 100.000 abitanti poi ci sono tanti altri parametri da valutare, si andrà in una zona che non sarà più quella bianca ma di un colore diverso. Queste dichiarazioni sono state rese a margine del taglio del nastro questa mattina per scala del rinnovato pronto soccorso che potrà contare su una nuova e più efficiente struttura per rispondere alle esigenze dell'utenza. Vediamo. Oltre 2.500 metri quadrati di locali con le più sofisticate apperecchiature mediche con reparti separati per gli accessi dei degenti, delle malattie infettive e anche questo il nuovo pronto soccorso dell'ospedale civile Santo Spirito di Pescara che figura al tredicesimo posto in Italia per numero di accessi annui con oltre 100.000 prestazioni. Questa mattina il taglio del nastro della nuova struttura alla presenza dei vertici politici abruzzesi e della ASL soddisfatto il presidente della regione Abruzzo Marco Marsiglio che parla di traguardo importante per la nostra regione. Sicuramente una notizia importantissima non solo per la città di Pescara ma per tutto il sistema dell'emergenza abruzzese avere a disposizione un presidio così tecnologicamente dotato perché nel corso dei lavori è scoppiata la pandemia Covid abbiamo ovviamente già riadeguato il progetto e realizzato il progetto con la compatibilità dei percorsi, la separazione dei percorsi quindi la compatibilità con le misure anti-Covid quindi insomma una pagina di buona sanità pubblica che stiamo oggi iscrivendo. Si attendeva da molti anni il nuovo pronto soccorso dell'ospedale di Pescara che registra tra gli accessi più alti in Italia per quanto riguarda proprio il pronto soccorso. Sì assolutamente sì, per fortuna oggi è un giorno di festa per la città, per la popolazione della città di Pescara perché abbiamo atteso per tanto, forse troppi anni, la realizzazione di questo pronto soccorso. Come diceva lei è un pronto soccorso molto attivo, molto importante, è il più importante della regione Abruzzo uno dei più importanti d'Italia, con i 100 mila accessi che fa e si colloca al tredicesimo posto dopo molto molto prima di strutture più blasonate come il Gemelli, il San Raffaele, il Niguarda e quindi sono una struttura molto importante, siamo anche tra una center regionale e finalmente abbiamo una struttura all'avanguardia che può dare una risposta adeguata a quelli che sono i bisogni di salute della popolazione. Vogliamo dare qualche numero del nuovo pronto soccorso? Sì, abbiamo una superficie di 2500 metri quadri, abbiamo una struttura che in pochissimi pronto soccorso se non quasi nessuno ha in Italia, di una struttura che può contenere i pazienti che aggiungono con malattie infettive e vengono posizionati in questa struttura con posti letto di terapia intensiva che si trova al di fuori dell'ospedale, quindi evitiamo il contagio di altri pazienti. Questa struttura fa parte del pronto soccorso ma è al di fuori dell'ospedale, collegata col pronto soccorso. Abbiamo poi 5 posti letto di shock room, quindi di emergenza, abbiamo sale attese per i bianchi, per i verdi, abbiamo tutto un settore pediatrico, abbiamo la TAC 128 strati, abbiamo un apparecchio digitale per la radiologia tradizionale all'avanguardia, abbiamo la traumatologia e l'ortopedia all'interno del pronto soccorso, quindi tutte le strutture che possono far funzionare al meglio questa struttura. Parliamo ancora di sanità nel corso di un incontro col sindaco di Pescina Zauri, il presidente della commissione sanità in consiglio regionale Quaglieri torna a parlare dei risultati raggiunti nella riorganizzazione della rete ospedaliera nella Marsica, vediamo. Consigliere la regione vicina al territorio, un incontro con il sindaco di Pescina Mirco Zauri per parlare ovviamente del futuro ma soprattutto non solo di sanità, di tanti progetti che riguardano il territorio marsicano, da dove viene l'idea di un incontro di questo tipo proprio sul territorio? Abbiamo assistito ultimamente quindi a un allontanamento della politica, anche quella di governo, da quella che è l'esigenza spiccia del territorio, quello è il bisogno reale del territorio per parlare di grandi sistemi. No, noi vogliamo tornare invece a riparlare con le persone, a riparlare con i sindaci che sono il termometro del benessere o il non benessere di una realtà. Mi sembrava opportuno iniziare da qui, ma verranno incontri in tutti i paesi marsicani, nel periodo della provincia dell'Aquila e anche in Abruzzo, come la settimana scorsa sono stato a Roseto, sono stato a Giuliano, quindi ci sono tanti incontri per cercare di indirizzare la politica verso il territorio in una maniera più opportuna. Per chiudere si sta giocando ancora adesso la battaglia del riordino della rete ospedaliera regionale, si può dire che la partita della Marsica è stata chiusa ed è stata vinta in qualche modo in base alle richieste che sono state avanzate dai sindaci? La partita della Marsica è stata non vinta, ma stravinta, perché ha visto un impegno importante da parte dei nostri consiglieri e abbiamo dato veramente una grande svolta alla rete sanitaria a Marsicana, da ridando dignità a quei presidi ospedalieri da anni dimenticati, nonostante tutta una serie di personaggi locali anche in prima persona esposti, ma gli abbiamo ridato una dignità, gli abbiamo ridato quindi posti letto, gli abbiamo ridato qualità, abbiamo ridato unità complesse e dignità ai medici che lavorano. Cambiamo pagina, si è tenuta questa mattina la presentazione della struttura dei dipartimenti regionali della Lega Abruzzo, il servizio. Una presenza ancora più efficace sul territorio, va anche in questo senso la presentazione oggi a Pescara dei nuovi dipartimenti regionali della Lega che si struttura in maniera ancora più capillare anche in vista delle prossime elezioni amministrative d'autunno. Questa mattina all'Aurum la presentazione della nuova organizzazione del partito alla presenza fra gli altri del vice segretario federale nazionale Andrea Crippa. La Lega chiaramente presenterà i candidati sindaci condivisi con le altre forze politiche del centrodestra in questo weekend e nelle altre due realtà che mancano, questo weekend le presenteremo a Francavilla, a Lanciano e a Vasto. Dopodiché la prossima settimana rimarrà sul Mona, però ormai ci siamo, siamo in due indirittura d'arrivo e è chiaro che la nostra ambizione è quella di governare da primo partito. L'abbiamo fatto due anni fa alle elezioni regionali perché abbiamo conseguito un risultato incredibile che dobbiamo consolidare, perché qui la gente ci ha votato non perché abbiamo mai dimostrato qualcosa ma perché forse siamo l'ultima speranza per rendere l'Abruzzo una terra meritocratica e attrattiva. Adesso andiamo avanti in questo percorso anche nei comuni in cui si va il voto scegliendo non persone che appartengono a un partito o un altro, ma scegliendo i candidati migliori per provare a dare le risposte in queste città, perché secondo me il centrodestra deve andare oltre le bandierine di partito ma scegliere le persone più capaci e più competenti. Io credo che l'istituzione dei dipartimenti regionali, che poi chiaramente ognuno segue una materia e un tema specifico, sia un ulteriore processo di partecipazione che parte dal basso. I dipartimenti saranno 18, ad oggi abbiamo avuto 150 adesioni di professionisti, commercianti, operatori nel terzo settore, del mondo della cultura, della scuola e credo che sia la soluzione migliore per cercare di portare proposte sempre maggiormente interessanti che partano dal basso all'attenzione del Consiglio regionale e anche dell'Aggiunta regionale. Quindi credo che su ogni materia faremo un lavoro certosino di confronto diretto con chi opera quotidianamente nei singoli settori e questo darà la possibilità alla Lega e alla Regione di Abruzzo di fare un ulteriore salto di qualità rispetto a quelle che sono le esigenze dei cittadini. La cronaca, sono stati rinviati a giudizio tutti i 12 imputati del procedimento relativo all'inchiesta sugli appalti per l'organizzazione di eventi e spettacoli a Pescara e sul presunto concorso truccato alla ASL del capologo adriatico. Lo ha stabilito stamani il GUP del Tribunale di Pescara. Saranno quindi processati gli ex assessori comunali Giacomo Cuzzi, Simona Di Carlo e Moreno Di Pietrantonio, gli imprenditori Andrea Cipolla e Cristian Summa, Gianfranco Berardinelli, collaboratore socio di Cipolla, Alessandro Michetti, promotore musicale, Leila Colucci, dipendente ASL in servizio all'ufficio gestione risorse umane. Quattro società riconducibili a Cipolla e Summa. I 12 sono accusati a vario titolo di corruzione, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, illeciti finanziamenti elettorali e turbata libertà degli incanti. Il processo a loro carico davanti al Tribunale collegiale di Pescara prenderà il via il prossimo 13 dicembre. Nell'ambito dell'inchiesta i tre ex assessori e gli imprenditori Cipolla e Summa erano finiti agli arresti domiciliari. Le indagini presero il via nel 2018 a seguito di un esposto anonimo giunto alla Guardia di Finanza. Il processo per corruzione elettorale in cui sono imputati Vincenzo Dogali, Lorenzo Sospiri, Alessio Monaco proseguirà. Il giudice monocratico infatti ha dato il via libera alla trascrizione delle intercettazioni ambientali le quali ora possono essere utilizzate. Senza queste il processo si sarebbe presto chiuso. Giuseppe Dintino. Il processo per corruzione elettorale non si ferma. Tra gli imputati il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, il sindaco di Rosello, Alessio Monaco e l'ex consigliere comunale di Pescara, Vincenzo Dogali. Il giudice monocratico ha dato il via libera alla trascrizione delle due intercettazioni ambientali le quali diventano ora elementi del processo. Tutto è partito da un'indagine su Dogali, medico accusato di peculato per aver continuato a svolgere la professione dopo il pensionamento. Per incastrarlo gli investigatori hanno fatto installare un microfono e una telecamera nello studio del medico ed è allora che si sono resi conto che le ipotesi di reato potessero essere più gravi di quanto sospettassero. Gli apparecchi degli investigatori hanno registrato i due incontri con gli esponenti politici. Nelle elezioni regionali del 2019 Sospiri e Monaco appartenevano a due schieramenti opposti. Il primo con Forza Italia sosteneva Marco Marsilio, il secondo con più abruzzo era dalla parte di Giovanni Lennini. Eppure i due imputati si sarebbero recati dalla stessa persona, ovvero Dogali, per raccattare i voti. Sospiri a Pescara e Monaco nel collegio di Chieti. Secondo l'accusa Sospiri avrebbe promesso a Dogali, in cambio del suo bacino di preferenze, un qualche incarico nell'ambito della sanità, promessa che evidentemente non è stata mantenuta, perché Dogali non ha ottenuto alcunché dalla vittoria di Marsilio. Monaco invece sarebbe stato più concreto, 200 euro in contanti, che il medico avrebbe dovuto girare ad alcuni infermieri affinché questi facessero campagna elettorale nei corridoi dell'ospedale. A seguito di quelle elezioni Sospiri è diventato presidente del Consiglio regionale, mentre Monaco non è stato rieletto. Gli avvocati difensori hanno chiesto che le intercettazioni non vengano usate nel processo, perché erano state disposte per un'altra inchiesta, quella per esercizio abusivo della professione che coinvolge il solo Dogali. Il giudice monocratico però ha respinto la tesi della difesa, dando ragione alla procura, le intercettazioni sono considerate corpo del reato e in quanto tale saranno trascritte. Martedì sarà affidato l'incarico imperito e dopo le ferie estive il processo continuerà nelle aule del Tribunale, dove ci si scontrerà sull'interpretazione dei colloqui incriminati. Le intercettazioni ambientali rappresentano l'unica prova che dimostrerebbe il reato di corruzione elettorale a carico dei tre imputati. Se il giudice ne avesse negato l'utilizzo, il PM si sarebbe trovato costretto a chiedere l'assoluzione per tutti e il processo si sarebbe concluso in un buco nell'acqua. Andiamo ora a Giulianova dove ha riaperto i battenti la Pinacoteca Bindi dopo la conclusione dei lavori di ristrutturazione. Vediamo. Torna a nuova vita la Pinacoteca Vincenzo Bindi di Giulianova. Domenica 18 luglio ci sarà la riapertura al pubblico. Assessore Giorgini, una grande notizia non solo per Giulianova. Sicuramente è un grande onore per noi riportare alla luce, allo splendore questo luogo, questa Pinacoteca che è stata chiusa per 15 anni. Io dico sempre che i miei figli non la conoscono. È un gioiello così bello, così ricco di opere importantissime. Era giusto che tornasse allo splendore e alla fruizione dei turisti o di tutti quelli che hanno piacere di goderne. Io ho cominciato a prendere coscienza dello stato della Pinacoteca all'inizio del mio mandato, il luglio del 2019. Avrei voluto proprio le riprese di come era e adesso di com'è. Era ridotto una situazione, c'erano degli errori, erano stati fatti degli errori e con due anni di sacrifici, grazie anche a un finanziamento regionale, siamo riusciti a restituire alla città un'opera degna. Devo ringraziare la sovrintendenza che ci ha aiutato in questo percorso di recupero di queste stanze, devo ringraziare il Dottor Pomande che ci si è dedicato ovviamente, gli uffici che hanno supportato tutte le necessità di quest'opera. Questo è un luogo che viene riconsegnato ai legittimi proprietari che sono i cittadini dopo 17 anni. Vincenzo Bindi nel 28 alla sua morte passa questo suo grande tesoro, questi suoi figli d'arte e di cultura fondamentalmente ai cittadini giuliesi, ai suoi concittadini. E' stato un recupero lungo, io ho avuto l'onore e l'onere di seguirlo dalla ricerca fondi, praticamente partita alla fine del 2013, che ci ha permesso un finanziamento regionale nel masterplan, ma diciamo a questo finanziamento che ha permesso i lavori, ricordiamo che queste stanze erano state completamente deturpate, ovvero era stato tolto il pavimento antico, sostituito con un pavimento moderno, le pareti totalmente imbiancate, dunque quella che è la particolarità di questo luogo, cioè la casa museo, una dimora storica, era stata completamente distrutta. Dunque un lavoro molto meticoloso, un lavoro che si è concretizzato però negli ultimi due anni, nel vero senso della parola, dove l'amministrazione ha investito ulteriori risorse che hanno permesso dunque di avviare i lavori veri e propri, i restauri dell'ambiente, i restauri di gran parte delle opere, i restauri del mobilio, i restauri dei tendaggi, un nuovo, un'immagine corredata, una strategia anche comunicativa interna che vedrà la luce da qui ad ottobre, grazie a dei professionisti della comunicazione. Dunque un lavoro di squadra, dove c'è stato anche un comitato scientifico che si è occupato dell'allestimento, dalla direttrice del Museo Ebraico di Roma, alla professoressa Carlettini di Chieti, alla soprintendente Vencarelli, alla quale va il mio più sentito ringraziamento, per far capire che un luogo della cultura come questo, prezioso per l'Abruzzo, vetrina per l'Abruzzo e per il meridione d'Italia, grazie proprio alla collezione della scuola di Posilli, poi non solo, che regna in queste sale, ebbene il lavoro di un museo è il lavoro di squadra, fatta di tantissimi professionisti, dai progettisti ai restauratori, ai comunicatori, chiaramente alle direzioni poi che coordinano tutti questi appunto professionisti del patrimonio culturale, insomma un luogo che viene riconsegnato e comincia un altro lavoro, il lavoro di portare questo patrimonio culturale a tutti. Solo il 10% delle imprese abruzzesi fa ricorso al digital marketing, questo è il risultato di uno studio effettuato dalla Camera di Commercio di Chieti Pescara, vediamo il servizio. Solo il 10% delle imprese che dichiara di svolgere attività di digital marketing, il 22% del totale, ha una buona dimestichezza con il digitale e con tutti gli strumenti di cui esso dispone. Il 20% delle imprese che dichiara di fare digital marketing prova a svolgere delle attività che vanno oltre il solo utilizzo dei social media, mentre la restante parte, il 70%, svolge attività pressoché amatoriali. E questo è il quadro che emerge da un'analisi commissionata dalla Camera di Commercio Chieti Pescara al professor Damario, docente del laboratorio di digital marketing dell'Università Gabriele D'Annunzio e oggi presentata in conferenza stampa Pescara. La Camera di Commercio ci ha commissionato questo studio e purtroppo dobbiamo dire che la fotografia è disarmante. Da quello che emerge soltanto il 10% delle imprese utilizza questi strumenti nel modo adeguato, quindi la strada è tutta in salita. Il 10% delle imprese fa digital marketing nel modo adeguato, ma ci sono anche molte imprese che pensano di fare digital marketing nel modo adeguato, ma sbagliano di grosso, perché poi noi abbiamo fatto delle analisi desk, al di là del questionario sono state analizzate in maniera tecnica con dei software avanzati le imprese e dal punto di vista qualitativo le imprese hanno ancora molto da fare. Quindi non c'è la consapevolezza di cosa sia il digital marketing, perché se io dico che faccio una cosa, la faccio bene, ma poi attraverso degli strumenti oggettivi vada a misurare la capacità di queste imprese di lavorare bene, questo non accade, quindi c'è uno scompenso che dimostra che le imprese non abbiano contezza. C'è solo una via e la formazione, formazione continua in un settore dove la formazione deve essere continua, perché l'aggiornamento è continua. Sarà un'edizione tutta rinnovata, la 46esima del premio Teramo. Vediamo il servizio. Un'edizione la 46esima del premio Teramo che trova nuova slancio e nuova linfa per rigenerare appunto un premio che è fortemente legato alla tradizione culturale del territorio, rappresenta uno degli appuntamenti più importanti su tutto il panorama nazionale, lo è ancora di più per la nostra comunità e quindi era giusto dopo 46 edizioni arrivare a rinnovarlo, a dargli nuovo slancio, delle novità assolutamente importanti e significative che danno la testimonianza di come questo premio rappresenta oggi e soprattutto rappresenterà nel prossimo futuro un elemento nevralgico per la ripartenza e la rigenerazione della nostra comunità facendo proprio della cultura il capitale dal quale far ripartire la nostra comunità. Non è cambiato nella sua composizione per quanto riguarda le tre sezioni del premio Teramo che sono sempre le stesse, quindi il premio Teramo per un racconto inedito, il premio Teramo Mario Pomiglio riservato ad uno scrittore abruzzese, il premio Giacomo Benedetti riservato a un autore giovane, ma c'è un momento anche di rinnovamento perché la precedente giuria è stata completamente azzerata e abbiamo una giuria tutta nuova, una giuria giovane, i giurati hanno un'età compresa tra i 30 e i 50 anni e praticamente il presidente di questa giuria è Simone Gambacorta, al quale abbiamo voluto dare la presidenza proprio perché ci aiutasse a fare da tramite in questa transizione e facesse anche gli onori di casa, ricordiamo che con la ripartenza del premio Teramo il cui bando verrà pubblicato a fine agosto, prima di settembre, riparte anche la rassegna letteraria aspettando il premio Teramo i cui primi eventi ricadranno nella manifestazione culturale Teramo Natura Indomita e nelle prime appuntamenti avremo Donatella di Pietrantonio, avremo i nostri giurati, però andremo avanti poi nel corso del tempo da qui fino alla primavera in cui ci sarà la cerimonia finale con altri eventi molto importanti. Nel 2005 ho scritto questo raccontino di 6 o 7 pagine e l'ho mandato al premio Teramo che non mi ha mai risposto e poi da lì però i racconti servono a farsi le ossa, servono insomma a sperimentare e da lì ho scritto qualche altro racconto che è stato premiato e poi ho esordito nel 2019 con un romanzo che è la forma diciamo autoriale che forse mi appartiene di più, però continuo ad amare profondamente i racconti e sono veramente fiero di essere giurato del premio Teramo. Lo sport si è svolta ieri in piazza Sant'Anna a Teramo la terza edizione del premio Carmine Rodomonti, premiati tanti personaggi illustri del mondo arbitrale e della storia calcistica bianco-rossa, Jacopo Forcella. Serata di gala ieri sera a piazza Sant'Anna a Teramo per la terza edizione del premio dedicato a Carmine Rodomonti proprio nel giorno del compleanno numero 108 del Teramo. L'associazione Amici del Calcio Teramano ha voluto ricordare una figura che è stata cruciale nella storia ultracentenaria del diavolo premiando arbitri e vecchie glorie del calcio bianco-rosso. Dopo il tributo a Sergio Quirino Valente ricordato sul palco dalla moglie Lie e dall'avvocato Stefano Franchi le premiazioni hanno riguardato i quattro componenti principali. dell'Aia di Teramo, oltre all'ex fischietto Pasquale Rodomonti anche Calvarese, paterna Di Martino e Di Giacinto. Riconoscimento anche per il neodesignatore della Cannes di A e B, Gianluca Rocchi. Sul palco anche elenito di liberatore e vanto degli assistenti della nostra terra che ha omaggiato l'altro assistente, tutt'ora in attività, Dario Cecconi. Premio alla memoria per Giuliano De Berardinis, 12 stagioni nel Teramo salutato dagli applausi della piazza con la moglie Patrizia e la figlia Valentina che hanno ritirato il riconoscimento per un uomo, oltre che un giocatore entrato di diritto nella Hall of Fame della storia bianco-rossa. Premio anche per il presidente Giovanni Cerulli Relli, il campionato 93-94 certo, ma anche il lancio di allenatori come Luigi Del Neri sotto la sua gestione e l'acquisto di un giovane Enrico Chiesa, a pochi giorni dal successo del figlio Federico Euro 2020. Poi le coppie Pica-Simonato, glorie degli anni 70 del diavolo, con le vecchie Bucciarelli per gli anni 80, fino a Mauro Meluso, ex direttore sportivo dell'epoca Malavolta. Un ritorno molto piacevole perché io comunque sono sposato da 31 anni in una terramana, quindi mi sento un terramano a tutti gli effetti. Era un po' di tempo che mancavo perché negli ultimi quasi dieci anni non avevo mai staccato la spina, quindi in questo momento sono molto contento di essere tornato per un po' più di tempo. Poi è stata la volta dell'ex capitano Massimo Cerri, tornato da Alessandria nel settore giovanile. È una serata bellissima che mi ha fatto ricordare il mio arrivo a Teramo che è stato voluto da Carmine Rodomonte nel novembre del 1982. Quindi mi fa piacere riabbracciare la città, vedere tanti amici e l'organizzazione degli amici del calcio terramano che ha fatto una bellissima serata e che è sempre molto attiva in questo senso. Sono contento di tornare qui e speriamo di rivederci anche prossimamente. Premiato insieme a lui anche Gianluca De Angelis, infine Fabrizio Grilli e Valerio Gazzani, prima del taglio della torta per i 108 anni. Sul palco, tra gli altri, anche Andrea Malavolta, fratello di Guerromi, scomparso troppo presto, ma la cui presidenza ha contrassegnato la storia recente del club. Presente anche l'attuale presidente Franco Iachini, che ha confermato la data del ritiro il prossimo 26 luglio allo stadio Bonolis, senza sbottonarsi però sul nome del prossimo allenatore. L'allenatore in questo momento, in attesa magari dei nuovi giocatori, è chiaro che suscita l'interesse della demoseria, chi sarà, chi non sarà. È una soluzione interna? Sì o no? Ma per l'amore di chi? Non chiede. No, non chiede. E allora qua? Non ce l'abbiamo, c'è un'attività. No, non lo so. Non ce l'abbiamo, è l'intero Iachini. Proseguiamo con lo sport. Gennaro Scognamilio sta per lasciare il Pescara ed è pronto a trasferirsi all'Avellino. Già in gruppo invece i neoacquisti Zappella e Pompetti, che devono essere ancora ufficializzati, ma già ieri hanno partecipato al primo allenamento nel ritiro di Palena. Vediamo. In concomitanza con l'inizio del ritiro di Palena inizia a sbloccarsi il mercato del Pescara e lo fa grazie ad alcuni movimenti in uscita che alleggeriscono il monte stipendi e creano spazio per l'innesto di altri calciatori con contratti più dimensionati per la C. Gennaro Scognamilio sta per legarsi all'Avellino. L'ufficialità è prossima. Il difensore di Gragnano non è stato convocato per Palena e ha usufruito di un permesso per poter chiudere la trattativa con il club Irpino. Arrivato dopo lo svincolo d'ufficio dal Cesena, Scognamilio chiude la sua esperienza pescarese dopo tre anni giocati con trend discendente, bene nel primo anno, per poi calare in quelli successivi. Formalizzata ieri la cessione di Luca Crecco al Vicenza in prestito con diritto di riscatto per la società veneta Crecco che aveva rinnovato il contratto col Pescara fino a giugno 2023 e che era rientrato dal prestito al Cosenza nella seconda parte della scorsa stagione. Dunque continuerà a giocare in Serie B. Stesso discorso per Edoardo Masciangelo per il quale l'addio al Delfino è definitivo. L'esterno romano, come detto qualche giorno fa, si trasferisce al Benevento con la formula del prestito con obbligo di riscatto che sarà esercitato dal club Sannita nel 2022. Nel ritiro di Palena, oltre al centramanti De Marchi, hanno iniziato a lavorare altri due calciatori prossimi all'annuncio, Davide Zappella, il laterale destro che arriva in prestito dall'Empoli e il giovane centrocampista Marco Pompetti che torna a indossare il biancazzurro in prestito dall'Inter. Arriverà a breve anche Giulian Ijanes per il quale il Pescara sta perfezionando l'acquisto a titolo definitivo dalla Fiorentina. Rispetto alla lista dei convocati, ieri al primo allenamento mancavano all'appello Busellato e Diambò. Il primo arriverà nei prossimi giorni e rientra nei piani dello staff tecnico biancazzurro a meno di importanti offerte dalla B. Il giovane canese potrebbe essere interessato da dinamiche di mercato. Intanto la coppia Sebastiani-Matteassi continua a lavorare su vari fronti. Interessano Eugenio Dursi del Napoli, Ettore Gliozzi del Monza, Gabriele Gori della Fiorentina. Trattative non semplici. In caso di alcuni di questi innesti si faranno valutazioni sulle uscite di altri attaccanti, i vari Bunino, Borrelli e Di Grazia. La prima seduta di allenamento agli ordini di Auteri è stata già molto intensa. Il tecnico di Floridia ha molto spronato Galano. Un po' in difficoltà Drudi e Valdifiori, ma ci sarà tempo e modo per rimettersi a posto. E Auteri ha subito voluto mettere in chiaro le cose. In questo ritiro vuole vedere gente carica e motivata per lanciare così l'operazione Ritorno in Serie B. E' tutto per questa prima edizione del TG6. Vi ricordo le prossime alle ore 19 e alle ore 23. Vi ricordo che i servizi che avete visto a breve saranno disponibili a un demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i programmi di TV6.